Quando sei diventata un ingrato? Sei... Oh, non avresti nulla di tutto questo se non fosse per me. Sai che c'è? Ok. Sai dirmi una cosa che mi hai insegnato oltre a Elisa? Sposati da giovane e sforna un figlio così lui non ti lascerà. Dimmi una cosa che hai fatto per me. Una. Ti ho insegnato a sopravvivere. Sono sopravvissuta a te! Mamma, sono qui grazie a me!